Questo weekend esiterà il Vancouver Pro in Canada che darà la qualifica all'Olimpia 2022 Questa è la lista iniziale di tutti i partecipanti, sono solo 7 E secondo me quest'anno stanno facendo troppe gare open E in queste gare ci sono pochi partecipanti Cioè è già la quarta volta che ce ne sono solo 7 Quindi secondo me stanno facendo troppe gare Bisognerebbe farne un po' di meno Comunque il primo che gareggerà è Ian Valier Che sarà sicuramente il favorito alla vittoria Ian gioca in casa, infatti anche lui è canadese Questa è la sua prima uscita dell'anno Ma che non sarà l'unica Infatti farà anche il Tampa Pro e il Texas Pro Per mantenere il titolo di campione in carica Infatti l'anno scorso aveva vinto quelle due gare Con anche la polemica che si è fomentata Per il fatto che continuava a gareggiare Togliendo la qualifica quelli che non erano ancora qualificati Come Steve Kuklo Comunque questo è l'ultimo aggeramento di Ian Postato da Patrick Tour qualche ora fa sul suo profilo Instagram Penso che Ian vedendo la lista vincerà tranquillamente Senza nessun problema Non vedo nessuno che possa dargli fastidio Ian l'anno scorso ha portato una buona condizione A quasi tutte le gare che ha fatto Specialmente al Texas Pro Ha un po' di punti deboli il suo fisico Come per esempio Assenza dei tricipiti Petto molto carente rispetto alle spalle Ed è anche quadricipiti un po' indietro Infatti mi ricordo che l'anno scorso e anche nel 2020 Si notava molto la sua carenza nei quadricipiti Anche per il fatto che lui non li contraeva Cioè nelle pose frontali Lui non contraeva quasi mai in quadricipiti E quindi si faceva notare molto la sua carenza di volume nei quadricipiti E spero che quest'anno abbia migliorato il posing E anche i quadricipiti Però anche se non dovesse migliorare Vincerà lui tranquillamente la gara senza alcun problema Il prossimo a sorpresa di tutti È Antoine Vailant Antoine Vailant in questi mesi è stato un po' un mistero E qualche mese fa Anzi mi pare che era novembre o dicembre dell'anno scorso Avevo fatto un video in cui parlavo della situazione fisica di Antoine Lui infatti aveva un problema al cuore Che non starò a ripetere Se volete sapere che problema aveva Basta che guardiate il mio video di qualche mese fa Comunque non mi sarei mai aspettato che Antoine sarebbe tornato a gareggiare così presto E anche non mi sarei aspettato che sarebbe tornato a gareggiare Perché lui aveva ipotizzato anche il ritiro Comunque mi pareva un po' strano che negli ultimi mesi Antoine postava sempre foto del suo fisico E sembrava sempre più definito Lui aveva detto che si stava preparando ad uno shooting fotografico estivo Però alla fine ci ha preso in giro E si stava preparando a questa gara Comunque in questo post Antoine ha detto che questo è il peso più basso Che abbia raggiunto in molti anni Infatti erano molti anni che Non era così leggero Tra virgolette Non so il suo peso al momento Però sembra molto ridimensionato Rispetto agli anni scorsi Lui è da un bel po' che non gareggia tra l'altro L'ultima gara che aveva fatto è stata l'Olimpia 2020 Poi l'anno scorso non ha gareggiato Perché si era strappato il bicipite Aveva anche il problema al cuore Che spero che abbia risolto a questo punto Comunque io qui lo vedo secondo dietro a Ian Non penso però che possa battere Ian Poi abbiamo Martin Hernandez Che l'ho visto gareggiare per la prima volta Due settimane fa ad Orlando Devo dire che Martin ha un fisico molto molto bello Ha un'ottima struttura Belle proporzioni Buona condizione E soprattutto anche un'ottima schiena Secondo me però gli manca ancora un po' di massa Questa era accanto ai big Però veramente ha un bellissimo fisico Guardate questo suo front left Com'è bellissimo Una struttura molto buona Vita stretta Belle forme Si allagra molto bene con i dorsali Ottimo in quadricipiti Non ha punti deboli Se non il fatto che gli manca massa Però con un po' di massa in più secondo me potrebbe fare molto molto bene in futuro Per il momento io lo metto in top 3 dietro a Antoine Sarà anche molto bello vedere come risulterà accanto ad Antoine Perché anche Antoine è piccolo rispetto agli anni scorsi Quindi sarà bello il confronto tra loro due E infine poi abbiamo Jonas Jatras Che anche lui aveva fatto Orlando due settimane fa Ed era arrivato al sesto posto Poi aveva fatto anche Puerto Rico Ed è arrivato terzo davanti a Muzzi Come ho già detto un sacco di volte Non ha il fisico più bello di sempre La struttura non è particolarmente ottima E gli manca ancora molta molta massa Però porta sempre una buona condizione in gala A Orlando aveva battuto Martin Però penso che a questa gara Martin passerà davanti a Jonas Perché muscolarmente lo vedo superiore È molto più grosso ed è molto più bello da vedere rispetto a Jonas Comunque questi erano alcuni di quelli che gareggeranno a Vancouver questo weekend Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere chi secondo voi vincerà questa gara Se sarà Ian Vallier o Antoine Weiland Fatemelo sapere Vi chiedo a like e a commento come al solito E noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti